Favoriti noi? Favoriti noi? Ma vediamo di non scherzare, tutto il contrario. Sfavoriti noi. Con il bastone fra le ruote, come sempre, per far vincere gli scoloriti. Come sempre. Le provano tutte per farci perdere. Altro che noi favoriti. Sfavoriti al massimo. Come sempre, da soli, contro tutto e tutti, specie, quando il testa a testa viene fatto con una squadra che è stata condannata e mandata in Serie B. Ovviamente in un paese normale non esisterebbe più il marchio e si chiamerebbero Piemonte Calcio. Ma questa è un'altra storia collegata, ovviamente, ma ne abbiamo parlato tante volte. Allora, benvenuti in monarchici assoluti. Innanzitutto iscrivetevi al canale, cliccate prima su iscriviti, subito dopo sulla campanella. Selezionate tutte, in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video o di quando faccio le live. Live che faremo stasera alle 21, grandi ospiti, commenteremo tutta la giornata di campionato appena passata. Allora, dicevo, perché noi sfavoriti? Ragazzi, hanno cambiato le regole pur di sfavorirci. Ora, per quanto abbiamo tutti festeggiato la Supercoppa, ma l'obiettivo dichiarato dell'Inter quest'anno è lo scudetto per la seconda stella. Ora, noi avevamo due soli diffidati, Barelli e Cialanoglu, seccati tutti e due. Tutte e due ammoniti, diffidati, quindi salteranno la partita di Firenze. Che per noi è fondamentale, già con il centrocampo titolare Firenze è un campo difficilissimo. Immaginatevi, su tre centrocampisti titolare due mancano, di cui Cialanoglu, ragazzi, insostituibile. Perché se Barelli ancora ancora frattesi può, ma Cialanoglu è insostituibile. Ce li hanno seccati tutte e due e ieri l'ammunizione che prende Barelli è un fallo che non esiste. Lo ha detto anche Cesari. Questa cosa però si sono scordata di dirla. Hanno detto, no, ma la prima ammunizione di Simeone è stato troppo duro l'arbitro. Perché nessuno ha parlato del fatto che l'ammunizione che prende Barelli la prende per una protesta su un fallo che non esiste perché Barelli prende la palla. Questo non l'ho sentito dire da nessuno. Come sempre i soliti servi, i media servi dei gobbi che ce li hanno tutti al libro paga tramite il gruppo Gedi. E quindi noi passiamo per i lati, quando invece ci hanno sfavorito al massimo. Perché noi andremo a Firenze senza Cialanoglu e senza Barella. Due erano i diffidati, ragazzi. Ce li hanno seccati tutti e due. Per quanto la Supercoppa è bello vincere, ma noi puntiamo allo scudetto. E qualcuno di voi crede che il calendario, che adesso hanno fatto questa porcata del calendario inverso da qualche anno a questa parte, sia casuale? Qualcuno di voi crede che i sorteggi siano casuali? Assolutamente no. E' stato fatto apposta proprio per favorire i scoloriti di Torino, il fango d'Italia. Loro hanno un calendario con squadre Empoli, Udinese, gente praticamente retrocessa o quasi. E noi abbiamo giocato la Supercoppa, due partite neanche una. Ci hanno fatto fuori Barella e Cialanoglu. Poi trasferta di Firenze, i Gobbi in casa e poi trasferta di Roma. E da lì a breve l'andata di Champions con l'Atletico Madrid. Fanno di tutto per seccarci, ragazzi. Fanno di tutto per seccarci. Perché, come molti hanno detto, quando c'è il testa a testa Juve Inter vince la Juve. Non si scordano di aggiungere il perché. Perché loro sempre sono stati e sempre saranno favoriti. Perché parliamo della loro proprietà è la famiglia che di fatto ha sostituito i Savoia in Italia. I reali sono loro. Quindi finché ci sarà quella famiglia lì a guidarli, non ci sarà mai regolarità. E noi per vincere il campionato quest'anno, come sempre, con tutti, ma soprattutto contro di loro, dobbiamo battere tutto il sistema. A noi ci fanno passare per lati quando il sistema è loro che favorisce. Cioè parliamo che il presidente, il capo, ragazzi, qui, Gravina, FGC, ha dichiarato l'anno scorso che il brand Juve va tutelato. Cioè per i reali che hanno fatto loro, non ultimo, il fasso in bilancio, le plusvalenze, quindi le fatture modificate a penna, andavano radiati. Cioè non doveva più esistere il club. Prova a fare una cosa del genere in America. Buttano la chiave. La gente va in carcere per il fasso in bilancio in America. In Italia non succede nulla. Gli hanno dato 10 punti di penalità. Giusto giusto per non fargli fare le coppe. In modo che, fra parentesi, lui è fare escluso dalle coppe una coppetta Europa League in modo che si possano concentrare sul campionato. Così vanno a vincere quello, secondo loro, perché non hanno fatto i conti con noi. E 700 mila euro di multa, che per loro sono 3,50 euro. Capite? Quindi noi da questa Supercoppa, nonostante la vittoria, nonostante il trusso in Bacheca, usciamo con le ossa rotte. Perché adesso dobbiamo andare a Firenze senza due terzi del centrocampo titolare. Barella ha preso l'ammunizione su un fallo che non esiste. Ha protestato e Barella ha esagerato, lo sappiamo il suo difetto, ma qualora non fosse stato fischiato il fallo, che non è mai fallo, Barella non avrebbe protestato, non ci sarebbe stata l'ammunizione, Barella sarebbe stato disponibile per Firenze. Quindi il loro piano di sfavorirci, ah, in tutto questo, sto scordando e recupero con l'Avalanta. Dice, ma anche gli altri devono recuperare. Primo gli altri non si stanno giocando lo scudetto. Seconda cosa, la Supercoppa è un trofeo che va da sempre giocato a inizio stagione. Questa pagliacciata di farlo a metà anno addirittura, vergognoso ieri che durante il minuto di silenzio è stato fischiato a Gigi Riva. Cioè, la morte di Gigi Riva a minuto di silenzio ci sono i fischi, una roba scandalosa, vergognosa. E' tutta, ragazzi, è tutta una macchinazione per metterci bastoni fra le ruote, ma non ce la faranno. Non ce la faranno perché noi siamo più forti del sistema. Siamo più forti. Io vi faccio vedere che anche senza centrocampo titolare andiamo a Firenze e vinciamo. Perché noi siamo l'Inter, siamo troppo forti. Ok? E crediamo nelle nostre riserve. Aslani e Frattesi vedrete che faranno bene. Non ce la fanno, stavolverci. Loro ci provano, ma io voglio essere ottimista. Ce la faremo. Quindi, quando qualcuno vi risponde che noi siamo i favoriti, dal palazzo, ditegli tutto quello che vi sto dicendo io in questo video. Ditegli tutto. Così si stanno zitti. Senza contare tutti gli errori arbitrali a favore di quelli. Perché un'altra cosa di cui ci accusano è l'Inter e i rigori. Quasi tutti i rigori, quasi tutti i rigori, parlo del 90% per l'Inter, arrivano sul risultato già acquisito. Sul 2-0, sul 3-0. Proprio quando già la partita era morta, praticamente. E che non sanno a cosa aggrapparsi. Come ieri i napoletani, no? L'Inter ruba. Ma nessuno ha visto che loro hanno fatto un tiro in porta e noi 22. Noi abbiamo fatto 22 tiri totali di cui sei in porta. Loro un tiro in porta. Ok? E questo già prima che venisse buttato fuori Simeone. Cioè loro, escluso il tiro di Kavaraschia, non hanno mai visto la porta. Erano in 11. Cosa vuol dire? Vuol dire che forse guardare le partite, ti fa capire di calcio. Invece, ostinarti per andare contro una squadra, a non ammettere la realtà, ti fa sembrare un buffone, un pagliaccio, un venduto, un servo del sistema. Questa è la verità. Loro sono venduti al sistema. Sappiamo tutti, non solo gli scoloriti, ma adesso i ratti, no? Si sono messi con loro. Sono sempre esistite le armate bianco-rosso-nere. E i ratti, essendo ratti, si scordano dello scudetto che hanno rubato col col di Montari che era dentro di due metri. non fa niente. Sono alleati, noi. Non vogliamo alleanze. Noi soli, contro tutto e tutti, e vinceremo. Ma guai, guai ragazzi, lo dico a voi fratelli interisti, a farvi dire che l'Inter è favorita, che l'Inter ruba, perché avete mille argomenti e alcuni li ho detti in questo video su come potergli rispondere. Perché questi stanno avvelenando tutto. La Marotta League, eccetera. E non è vero niente. Ripeto, basta vedere l'ultimo turno di campionato. Sullo 0-0 c'è un rigore grosso come un palazzo ed espulsione di Bremer. Non viene data. Vlaovic prende attacchettata in faccia alzando la gamba all'altezza uomo il giocatore del Lecce a cui esce sangue dall'occhio. Non viene buttato fuori. E vincono la partita da 0. Cioè, è proprio tutto scritto. Quindi, di che stiamo parlando? Noi dovremmo battere anche gli arbitri. Lo sappiamo. È tutto il sistema. Loro sono elate, non noi. Ovviamente a livello calcistico. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate prima su iscriviti, subito dopo sulla campanella, selezionate tutte, e diffondete il verbo del monarca. Diffondete, mandate i miei video ai vostri amici, pubblicateli sulla bacheca, Facebook, eccetera, perché il monarca è l'unico vero interista con l'Inter nel cuore che è libero, che non gliene frega un cavolo dei like degli altri tifosi. A me interessa solo dell'Inter e dire la verità. Il nostro solido saluto è latino videotermost.